Lo sai che la scottatura è uno dei modi migliori di cuocere la carne nelle diete casalinghe per cani e gatti? Per la cottura della carne e delle frattaglie, al fine di ridurre la carica batterica presente, ma contemporaneamente conservarla al miglio, dal punto di vista nutrizionale il miglior metodo di cottura è la scottatura, ossia prendere il pezzo intero, metterlo in una padella con dentro un pochino di acqua già calda e cuocerlo bene su tutti i lati, lasciando la parte centrale poco cotta. Le uniche eccezioni che vanno cotte bene a cuore sono la carne di maiale e la carne macinata. L'acqua di cottura non deve essere eliminata, ma può essere aggiunta alla razione. Un'alternativa a questo metodo di cottura può essere l'utilizzo di una pentola a pressione. È invece da evitare la classica bollitura, mettere la carne nell'acqua fredda e poi cuocerla per lungo tempo. Infatti, usando questo metodo, i nutrienti contenuti nella carne verranno dispersi nell'acqua.